Noi vorremmo dire che Moussa Baldè, che è morto, sia risultato nei suoi diritti. Solo questo che io volevo dire, perché è un essere umano come tutti gli altri, che se è straniero, se è italiano, comunque ha un diritto. Infatti, vorrei che sia Moussa o Chiusque, spesso le famiglie, noi viviamo qui da soli, e quindi le famiglie sono rimaste là, quindi in caso di morte, in maggioranza, senza richiesta o no, la gente vuole la salva indietro, per avere un funerale in famiglia, a prescindere che sia regolare o meno. Le spese sono enormi, infatti noi spesso facciamo un rapporto fuori, e bisogna, io ho tutto soltanto, nessuno lascia il suo proprio paese per piacere, nessuno. perché non puoi andare avanti e lasciare il tuo paese, perché vieni in Italia per una vita migliore. Ecco, non per forza per guerra, non per forza per fama, ma c'è sempre una motivazione dietro.